Il direttore di un museo, per rilanciare i musei valermitani, Cagliari ha fatto un bellissimo accordo, ma io la differenza tra città metropolitana e area che non hanno più conoscere provincia, diciamo morente provincia, perché devono essere aggiorate, finisce a sviluppo di... Questo significa perché le eccellenze in un quadro europeo, le aree metropolitane sono così attraverso i motori dello sviluppo, si individuano in queste aree e la Sardegna da sempre, geograficamente, dal 1300 si è sempre stata divisa in due distretti amministrativi, Capo di Sopra e Capo di Sopra, quindi adesso dovrà scantinare anche per farlo. La parola a Dottor Ventu, il nostro singolo di Castel Sacco, ma il nostro rappresentante.